e allora ragazzi abbiamo ottenuto la ciliegina sulla torta per questo sabato quindi siamo venuti a trovare il signor parodi amministratore delegato di parlux sono orgoglioso che parruccherando si sia ricordato anche quest'anno della parlux però di come possiamo dimenticarlo e sono qua contento di presentarvi la nostra nuova novità abbiamo visto abbiamo lascio i capelli aion che è stata la novità che abbiamo presentato l'anno scorso quindi ancora un articolo molto recente e che racchiude in questo piccolo spazio una tecnologia all'avanguardia perché riesce in un peso molto leggero in una silenziosità molto importante su una resistenza alloggia una resistenza con geometria variabile che permette una distribuzione della temperatura perfetta tutta la lunghezza della bocchetta e la sua bilanciatura fa sì che uno non sente la sua capelli mano quando lavora è dotato di una tecnologia ionica che permette ai capelli di rimanere sani perché lucidi e morbidi grazie al fatto che la temperatura non secca non secca la sua capelli e va direttamente all'interno del capello guardi signor parodi io non glielo ho detto ma l'altro giorno sono andato da mia amica parrucchiera che aveva una ragazza col colore molto sbiadito e questa voleva fare solo la piega lei gli ha detto ma no ma facciamo rinforziamo un po questo colore rinfreschiamo no 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 devo andare devo andare gli ha fatto la piega con con l'allion sa che sembrava che avesse fatto un ravvivante del colore ma è possibile che sia anche per il discorso e beh la temperatura giusta ben equilibrata fa molto e perché non gli ha fatto veramente il colore questa raccontenta come se gliel'avesse fatto in più noi abbiamo dotato questa sulla capelli di un apparecchio all'interno che è un cattura capelli per cui quando i capelli i pochi capelli che riescono a passare tramite questa retina del protettrice permette di sia di bloccare qualsiasi cosa bloccano perfetto di capelli fantastico noi abbiamo facciamo vedere tutti i colori colori perché noi vogliamo dare anche un tocco di allegria e salone dei parrucchieri so se si vede anche in video esattamente come dal vivo ma questa colorazione è veramente molto bella ragazzi questo qua tra l'altro c'ha un effetto cangiante è un colore giada però con riflessi azzurri è vero stupendo molto bello senta signor parodi io so che però c'è anche un best seller di casa di casa parlux che abbiamo avuto un restyling tecnologico che consiste nel riuscire a ridurre il rumore dell'apparecchio e ad aumentare il volume d'aria lui è il famoso parlox 3002 famoso parlox 3002 no e questo qui ha avuto una impressione molto grande in tutti i parrucchieri che lo usano e che hanno visto che è veramente qualche cosa secondo lei questo è il più venduto fra tutti fan parlo scusa dice no quel più venduto è il modello alien comunque secondo posto viene l'advance che è il font che abbiamo presentato quattro anni fa e al terzo posto c'è questo sul podio comunque c'è il 3200 nel podio c'è il 3200 che è uno dei fondi più venduti da sempre questo invece è il plus è diventato il 3200 plus grazie a questo restyling tecnologico che lo ha reso veramente silenzioso e potente e anche molto bello devo dire rispetto alla versione di prima è diventato migliorato c'è la sua decorazione col suo anello cromato che piace anche questo benissimo siamo contenti delle novità che abbiamo presentato quest'anno in fiera ci auguriamo che continui così perché siamo ancora a metà fiera e quindi io devo dire solo una cosa perché voi non so se lo sapete ma qui allo stand parlo quest'anno c'è anche una novità super divertente che questo questo gioco virtuale che dovete assolutamente venire a provare quindi io direi di dare appuntamento qui siamo al padiglione 33 perfetto allo stand di parlo che è al numero ci facciamo 17 15 17 e quindi venite assolutamente a trovare a vedere e a provare questo giochino che si può io vedo il mio socio lì che sta impazzendo che lo sta facendo come un matto quindi venite a trovare venite a trovare seo parodi tutto il team parlo seo parodi facci vedere il giochino che c'è di là lo giriamo vai 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 lì guarda quel pazzo ecco quel pazzo è il mio socio che non è matto ma sta facendo un gioco virtuale che è fantastico quindi diamo appuntamento tutti allo stand parlo su domani che è domenica bene seo parodi grazie e complimenti ancora e noi ci aggiorniamo per i prossimi grazie di essere venuto a trovare grazie grazie mille ciao ragazzi